esseri umani di sesso femminile o meglio esseri umani che vogliono essere o sono ricettivi ascoltate bene queste parole innanzitutto ricordiamo che essere ricettivi non significa essere morti non dare segni di vita essere ricettivi significa semplicemente che rispetto a una persona propositiva si gioca un po più nell'ombra ma la persona ricettiva lancia dei segnali fa delle cose non sta lì dicendo ma perché non capisce che lo amo sembri morta come fa a capirlo ma questo è tema del corso sulla magia quindi fatevi il corso sulla magia per capire innanzitutto se siete ricettivi o propositivi e poi come comportarvi detto questo dovete capire la differenza fra rifiutare fra il rifiuto ed essere chiuse o chiusi perché sono due cose totalmente diverse che vi fanno avere risultati totalmente diversi tantissime ragazze mi dicono ma non capisco gli uomini si allontanano dopo la prima serata sembra che fuggano ok i motivi possono essere diversi ma focalizziamoci su uno che è quello di una persona che sembra rifiutare un conto e dire no non voglio uscire con te un conto e dire ma non so se questo il momento oppure non so se mi sento tranquilla e sicura adesso ad uscire con te capite che sono due messaggi totalmente diversi è chiaro che io qui sto estremizzando ma il primo io non voglio uscire con te è un rifiuto non mi piaci e tantissime ragazze pensando semplicemente di tirarsela fra virgolette di chiudere un po le porte all'uomo che va benissimo come cosa ci mancherebbe parte del gioco in realtà il messaggio che manda dall'esterno non è una semplice chiusura che va bene entro certi limiti ma è un vero e proprio rifiuto è diverso dire non ti voglio da non so se ti voglio anche questo estremizzando perché il non so se ti voglio fa scatenare la belva il maschio che c'è nell'ameba che vi piace ok il non ti voglio beh non è detto che faccia scatenare l'ormone perché magari una persona dice oh questa mi sembra molto convinta e non necessariamente vorrà conquistarvi e se siete di quelle che pensano no se mi desidera veramente allora mi vorrà conquistare vi faccio una domanda perché diavolo dovrebbe volervi conquistare dato che probabilmente neanche vi conoscete perché avete un bel faccino beh non è questo il gioco il gioco è conosciamoci ma devi conquistarmi ma conosciamoci se la risposta è non voglio conoscerti ragazzi siamo 8 miliardi sulla terra e l'atteggiamento ripeto del ah vabbè allora non mi interessa vi rende soltanto delle persone respingenti rifiutanti un conto è chiudere un conto è rifiutare